Ok, iniziamo questo commento di SuperMNC SuperMindNightHabbyCombat che iniziamo che ci sta questa specie di ActionMan nella tuta palombaro da squalo in prima pagina con 11 dollari che sta bene lì ecco, già mi hanno rinunato il video devo urlare, sì, perché Fraps non mi fa registrare a volume basso se vedete il video di prima non devo urlare per forza quindi spero che mi si senta così perché davvero non mi si sentiva prima quindi fidatevi allora, ciao alla gente, vabbè è pure fastidioso urlare adesso vi devo far spiegare le classi praticamente queste classi sono dove sono le classi? Non le ho messe ovviamente sto vedendo un po' le classi e sta l'assassino che mi sembra la spia cioè sarebbe la spia con sti occhi da insetto versione sexy dovrebbe essere però insomma, non è che mi prende il piede tanto poi difficoltà massima quindi proprio mi pesa di andare a prendere poi mi pare che so a pagamento quindi so a pagamento quindi cioè devo perché il gioco è gratis ma sulla versione normale quello lì se lo pagate proprio è tutto sbloccato dovrebbe essere poi abbiamo il nero lo chiamo il nero che è la classe migliore gioco sempre perché è più facile è più caruccio cioè guarda che faccia te mette, come dite te mette che è sta roba? te mette cioè te mette simpatia te mette sicurezza poi c'è sta vabbè ecco questa classe c'è sta il gorilla che come di è un gorilla con sto maglietta a righe tipo da mafioso e poi boh è nero pure lui però questo è proprio nero nero magari dice nero no questo è proprio nero e non è niente di razzista perché tutti pensate male invece no non è affatto di razzista cioè guardatelo è un gorillone che cazzo avevo posso dire una scimmia enorme poi la piccola ragazza ragazza boy scout che è cresciuta con atteggiamenti cioè con vestiti molto se commentano da soli questi occhialetti le godine che c'è pure sta faccetta non so se si può zoomare sta a mente ingrandimento non serve un cazzo sta lì così per bellezza non si può zoomare poi cambia solamente colore c'è sta sta tipa che boh dovrebbe essere tipo la versione femminile del gorilla quindi c'è mi vengono in mente cose strane non voglio pensarci poi c'è sta il warhammer in pensione warhammer 40.000 in pensione è sta specie di tizio gigante con sto zaino e la minigun però se vedete è un po' copiutabile ma non è tanto lucido ma alla fine gli stereotipi sono quelli il gunner è questo ma si è proprio gunner e sta qua con sta minigun il warhammer in pensione poi la tamarrata texana sta specie di tizia che ha il guanto della monster e i stivali che non so come commentarli e cosa dalle ticache i capelli e gli occhiali e boh la tamarrata texana guarda è un fastidio urlare per sto frapp poi c'è sta la fusione no con il rosso vede bene la fusione di io robot con il robot di quel film tipo di robot c'è una specie di robot deficiente rosso sto tizio che se la tira con sto monocolo sta cosa così e poi allora questo qui lo lascio per ultimo il tizio ci sta la tizio e sempre no beh mi crasherà fraps poi ci sta ecco la gnagnona oppure capitan america ragazza america col fucile di rainbow dash e e le stelline ovviamente sto girando per le stelline non per altro con questi pattini che che boh mi sembra alla figlia di capitano america mi sembra questa cosa poi c'è sta ecco poi c'è sta sto tizio che non so come commentarlo cioè ditemi voi cioè io vedo sto tizio non ci credevo cioè sto tizio sta nel gioco praticamente la versione tipo di Leonardo da Vinci di di assassin creed con la barba a pizzetto l'adente ingannimento guarda proprio una cosa odiosa non c'è il cappello un basco tipo con ste cose steampunk ma sono più steampunk le ali tipo da pipistrello così steampunk e il dual disc alla yugioh sempre steampunk l'abbigliamento è da ottocentesco con i calzamai e rattoppate poi e e ste cose a palla ma la cosa che c'è sta tipo una specie di globo che è a metà tra un globo sembra tipo quei globi del novecento quelli che ho tutti tipo di legno e il casco di come si chiama il casco di evil knivold visto da dietro sembra e sta su una specie di monociclo e io sta classe non so cos'è ma è bellissimo cioè un personaggio così guarda cioè non so poi lo stereotipo più stereotipato di tutti il ladro francese il ladro francese mezzo idraulico cioè il classico baschetta barbetta gli occhialini secco secco alto alto fucile sembra una specie di coso subacquo e boh è proprio stereotipato che manca veramente che fa bombolatura così una cosa così spero che me si sente perché mi sta proprio andando via la voce a me poi c'è sta questo è bellissimo questo qui praticamente è la fusione di Deadpool e Daredevil cioè sembra Deadpool e la faccia di Daredevil perché è mezzo ciecato c'è un jetpack steampunk con due nixi mi sembrano quelle lampadine tipo a valvola e la spada laser c'è la cosa la spada laser dei Sith quella rossa a due braccia insomma e quindi è questo poi ci sta questo qui è figo perché dovrebbe essere il medico credo non ci ho ancora mai giocato e invece è lo zio lo zio scapolo quello che abbiamo sempre avuto di tutti uno zio un po' scapoletto che che insomma c'ha c'ha una certa età però ancora guarda c'è ancora c'ha i capelli tutti tutti comunque dai moderni c'ha i baffoni alla Super Mario il pizzetto cioè uno zio dai il classico zietto scapolo e sembra che c'è una specie di cosa tipo o c'ha un pansone della serie mi sono un po' ritirato poi c'ha i cosi c'ha i moon boot stivali che odio però vabbè poi c'è sta lo scarrafozzo una specie di mega scarrafaggio che per sbaglio mi è capitato una volta che giocacce mamma mia una cosa orribile che c'ha il jetpack ma lo usa pochissimo almeno io non ci so giocare quindi poi sapete voi e c'è una che sapete voi però insomma scarrafozzo gigante cara tipo sarebbe sempre sembra action man dai sembra action man oppure coso vabbè action man versione versione scarafaggio scarafazzo metallico poi c'è sta c'è sta il wrestler mancato che insomma rompe le palle solamente perché fa gli attacchi a fa gli attacchi i mili quelli lì a corpo a corpo e davvero dà tanto fastidio tal chimera poi mi dite perché questo qui fa attacchi corpo a corpo e può sparare chimera questa specie di testa di testa di uccello morto di corno di aquila le può sparare ripetizione a distanza quindi c'è o fate solamente corpo a corpo con un sacco di vita se no è inutile non mi fate attacchi a distanza perché dà fastidio sta persona poi questa persona che io non so come dice questo qua mi sembra un fan un fan nazi skin dei kiss perché c'ha il cappello nazi skin e le calzamaglie borchiate sembra tipo la cosa di Thor e braccia di Thor tutto così c'è guarda ma che tipo ma poi sto tizio c'ha la panza con l'ombelico dei fori che assomiglia troppo il tizio che fa che la mascotte del gioco la mascotte del gioco è tipo questa diciamo però solamente mette pantaloncini senza tutta sta roba da marra con la panza dei fori e te sto ciccione obeso che fa le pelviche che salta che ride ma è una cosa orribile cioè l'incubo di tutti cioè l'incubo di tutti i cosi di tutti gli animatori adesso proverò a farvi un video adesso faccio un video potete pure tipo i vestiti mi pare ci stanno no la biografia non mi interessa ci sono tipo i vestiti se li trovavo se ve li trovo ecco gli uniformi tipo c'è stato e questo che c'è stato tanto due minuti finisce tipo oddio proprio cioè fetish bambinone col pannolone ma guarda che schifo ma e poi questo che è normale perché quest'altro che è oddio questo qui invece già questo sembra tipo zombie di call of duty di world at war o the black ops come volete voi cioè sembra se no andiamo a vedere tipo gli altri uniformi dei altri da scout girl ovviamente le prime cose che uno va a vedere ah figo questa versione cosetta versione normale perché io versione ma che è sta cosa versione tipo vado a trovare la nonna con un tatuaggio tamarrissimo sul sul lombare mi pare giusto tipo red reading good non viene il nome e qui no comment dai si chiama ingegnere con sta cosa non so più di questo non so che div questo mi pare Arceus il cosplay di Arceus fatto male e poi che altro oddio io ho dei costumi di questo ok perfetto ci sta il cattivo di mister di mister come cacchio si chiama de de Poirot il cattivo classico cattivo che che è sto tizio ma arriva gente poi ci sta e questo pure boh il satanista mancato dell'ottocento non so che dire questo cos'è lo scarafaggio e qua questo è è quello dei è quello dei watchman dai questo è Falco come si chiama Falco si no Falco è un'altra persona però l'amico mio si chiama Falco allora ecco vediamo invece lo zietto cioè lo zietto lo zietto alla comic convention che si veste da Tamarro lo zietto alla comic convention di due anni fa che si è vestito da Ghostbuster lo zietto alla comic convention zombie in Estonia che si è vestito da zombie e poi che c'è e poi c'è lo zietto versione tipo Green Hornet quella specie di film insomma mi ricorda sto film poi non so voi la vediamo una cassa un po' più figa ecco vediamo il francese che poteva essere e poi c'è oddio chi è questo oddio no questo è spettacolo questo qui è cose Snake di Metal Gear Snake di Metal Gear dopo dopo tre giorni cioè no cioè Snake di Metal Gear è messo a dieta poi abbiamo sempre l'altro team di Ghostbuster cioè no Ghostbuster poi che c'è sta oddio Snake Snake figlio dei fiori frocio con una gamba con una protesi di legno dai veloce perché Fraps mi sta dicendo che a Federice non smetti finisce male ah voglio vedere Deadpool c'è sta ecco c'è sta super Deadpool super Daredevil poi ecco ovviamente Calabrone perché l'uomo ape questo che spettacolo cos'è il marino oh questo è spettacolare questo tipo marinaio a petto aperto capelli cioè spettacolo lo voglio come si chiama Capitan ah Capitan Spare proprio il nome suo dai veloce dai Fraps ultimo che vediamo Scarrafuzzone Scarrafuzzone che poteva essere che schifezze ma in un commento perché ah il Warhammer no vabbè vediamo il Gorillone dai il Gorillone che ci poteva ecco ovviamente Donkey Kong cos'è sto tizio ecco sempre figlio dei fiori beh le versioni sono queste ah questo è Carwood c'è invece tipo versione nello spazio magari era il Challenger però non siamo topo cattivi dai un ultimino ah la spia così per sicuro per curiosità vabbè sempre versione così cacchio un arce o se cavolo vabbè io chiudo perché Fraps e poi farò un altro video se ci riesco per il gameplay del gioco un altro video un altro video un altro video un altro video che ci riesco e poi un altro video